Guglielmo Gatti si esprime bene da uomo colto e istruito qual è. Si dichiara preoccupato dall'improvvisa sparizione degli zii, anche se il suo tono di voce e il suo corpo non sembrano rispecchiare quello che dice. È molto controllato, mentre col braccio continua a reggersi ben saldo al cancello, come se fosse un ancora che lo tiene al sicuro, che segna il limite tra lui e il resto del mondo fuori dal 15 di via Ugolini. Si stacca da lì solo per mostrare ai giornalisti una foto della coppia. Prende una grande cornice da cui Luisa e Aldo sorridono. Sono al mare su una barcavela, posano stretti in un abbraccio, i vestiti sui toni del blu e del bianco esaltano la loro bella abbronzatura, sembrano affiatati e felici in quel momento. Felici da fare invidi.